Ma ascolti, io so perfettamente che la riunione di Ramstan è stata dominata dal dibattito sui carri armati Leopard. Bisogna dire che i risultati di questa riunione, dal punto di vista quantitativo, sono stati molto importanti, molto positivi. E' emerso chiaramente che c'è la determinazione di Stati Uniti e Europa per intensificare il loro sostegno militare all'Ucraina. E questo è in modo stravolgente. Basta guardare le cifre. Gli americani hanno annunciato 2,5 miliardi, i tedeschi un miliardo, i danesi vogliono dare all'Ucraina tutto il bilancio César. Poi Arcus, un sistema di artiglieria fra i migliori del mondo è stato già promesso. Poi 400 milioni da parte di un altro partecipante. Insomma, se volete ho qui l'elenco di tutte le capacità militari che gli Stati membri dell'Unione Europea si sono impegnati a fornire nell'ambito della riunione di Ramstan, che era stata una riunione di coordinamento. Durante il Consiglio abbiamo discusso di tutto questo e il Ministro degli Affari Esteri tedesco aveva già detto che la Germania non blocca, non ostacola altri paesi che vogliono esportare questi carri armati Leopard. La Germania non blocca le esportazioni.